Matrix è ovunque, è intorno a noi, anche adesso nella stanza in cui siamo, è quello che vedi quando ti affaccia la finestra o quando accendi il televisore, l'avverti quando vai al lavoro, quando vai in chiesa, quando paghi le tasse, è il mondo che ti è stato messo davanti agli occhi per nasconderti la verità.